Un brutto colpo per il povero Antonio Iorio, scapolone impenitente protagonista del trono over di uomini e donne. Ha recentemente perso il padre e sta vivendo con grande dolore, come è normale che sia, questo lutto. Per questo Iorio avrebbe voluto vivere il suo dolore in forma privata. Secondo quanto si legge su diversi blog, Antonio dal suo profilo Facebook privato avrebbe attaccato chi ha diffuso pubblicamente la notizia della scomparsa del padre. Non so chi sia stato a diffondere questa notizia, sicuramente un imbecille. Avrei preferito che una situazione del genere fosse rimasta al di fuori della mia vita pubblica, avrebbe scritto Antonio. Il giornalista romano ha comunque ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini, dimostrandogli ancora una volta stima, affetto e simpatia.